Quando le temperature scendono l'influenza sale. Io anche quest'anno vorrei evitare il classico male di stagione che mi tiene inchiodata a letto, con dolori articolari, mal di schiena, febbre, tosse, mal di gola, raffreddore. Ah io anche quando ho il naso chiuso mi metto a imprecare dalla disperazione. Capisco, a nessuno piace stare a letto con l'influenza. Certo la cura migliore è stare sotto le copertine, al calduccio, ma chi ha più tempo di stare fermo a letto qualche giorno. Tra poco vi svelo come velocizzare il processo di guarigione in modo naturale con la naturopatia e le tisane. Le tisane sono utilissime in giornate come queste. Ecco le mie tre tisane preferite per riprendersi bene e in fretta. Possiamo usarle anche per fare prevenzione perché prevenire è meglio che curare. 1. Tisana di zenzero, limone e miele. È un classico intramontabile, non si può non berla, soprattutto d'inverno. Lo zenzero un po' piccante è un antinfiammatorio naturale. Il limone è ricco di vitamina C per il sistema immunitario e principi attivi antibatterici fondamentali in questa stagione. Il miele apporta minerali, fortificanti e sedi eucalipto, contiene i principi attivi balsamici ed espettoranti. Due tazze al giorno, belle cariche e belle fumanti, sono perfette. Per vedere come fare la tisana, ecco un mio video. 2. Tisana di cannella e chiodi di garofano. Che profumo di Natale! L'infuso si fa con mezza stecca di cannella e qualche chiodo di garofano, poi si aggiunge del limone e del miele di eucalipto prima di bere. 3. Tisana di malva e tiglio. La malva è lenitiva per le mucose irritate dall'influenza e dal raffreddore. Dona sollievo appena bevuta. Il tiglio stimola la sudorazione e può aiutare ad abbassare la febbre. Fare bollire due tazze di acqua e poi infondere un cucchiaio di malva e uno di tiglio per almeno 5 minuti. A piacere un cucchiaino di miele di eucalipto. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!